Il Meteo è presentato da... Vuoi ristrutturare la tua casa? Oggi hai la soluzione ideale! Vieni da Infinity Colors! Set trapano avvitatore con percussione e avvitatore ad impulsi Super Promo 229€ Smerigliatrice potenza 900W Super Promo 38€ Effetto sabbia Creative Desert Stone 27€ Disponibile varie colorazioni Infinity Colors In via Perpignano 247 a Palermo Benvenuti a Meteomed! Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque Nello specifico sul litorale tirrenico, ionico, meridionale e sull'Appennino e zone interne Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata Venti moderati dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali E la temperatura massima registrata sarà di 28 gradi e la minima di venti Mare mosso e nessun allerta meteo presente Grazie per averci seguito e alla prossima edizione! Wi-Fi Alexa Google Home 349€ Guaina a rotoli a partire da 42,90€ Idropittura super lavabile 14 litri 37€ Infinity Colors In via Perpignano 247 a Palermo